Abbiamo provato fino all'ultimo, abbiamo cercato di pareggiarla e portare un punto, non è stato così. Pensiamo alla prossima a fare punti e a non mollare ancora. Gli stimoli è già giocare in Serie A, penso che gli stimoli vengono da soli. Resta non mollare più o mai e cercare di fare punti ora e fare il possibile per far bene. Sicuramente potevamo fare di più, potevamo fare di più di squadra come sempre. Sono qui da tanti anni, mi sento parte di una famiglia e sono contento di stare qui e magari di restare in futuro. Ci sarà un'altra gara, fortunatamente, che ci possiamo riscattare subito questa sconfitta e cercare di fare punti. È il massimo che possiamo fare.